Bene, abbiamo il Presidente Ferrero in diretta, sicuramente sarà molto affaticato da questi aerei, di queste riunioni. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, allora è andata, il giocatore è un giocatore della Roma, è ufficiale, vero? Sì, sì, d'accordo, la Roma l'ho trovato, allora avevo già fatto tutto con il giocatore e vi posso solo dire che la Roma finalmente ha preso un grande giocatore, bello, giovane, forte e come vede la rete segna, questo a me mi ha fatto vincere un sacco di partite, per me è un gioco molto triste ma nello stesso tempo molto felice perché è arrivato a Roma così me lo posso guardare perché Roma è la mia città e lui qui sono sicuro che giocherà e regalerà tante soddisfazioni. È un grande, sicuramente è un grande acquisto da parte della Roma, però c'erano anche tante altre squadre e la Roma, insomma, si può dire che è stata lei al di là del prezzo che chiaramente poi è sempre... Beh, ce l'ho messa a me. Lei ce l'ha messa tutta per provare a darla alla Roma? Ce l'ho messa tutta, rinunciando anche a più soldi. Ora qualcuno mi vorrà male, però io penso... ho pensato non ai soldi ma al calciatore perché qui trova casa, qui trova una squadra che lo fa giocare e che lui ha bisogno di giocare. Il ragazzo deve giocare perché se gioca, come prende la palla, farà divertire tutti i rupacchiotti romani. Juve, Napoli, Parigi... Buga la rete! Sì, sì, su questo noi l'abbiamo visto, siamo molto convinti. Lui è molto cinico, è giusto... ha 20 anni ma la soffa di un 35 anni. E poi mi hanno detto che è un ragazzo molto serio, continuo, c'è anche questo che è importante. Un ragazzo serissimo, si allena sempre, non dà confidenza a nessuno, mi dispiace per voi che scrivo alla stampa. No, no, io sono della Roma, perciò per me va bene se ci parlano. Si fa, si fa, sono gli affari suoi... per lui è una missione, è una missione perché ha una passione, ha voglia, ha voglia, se ne sono dette tante su questo ragazzo, però mezza Europa voleva questo ragazzo. Perciò mi conferma Paris Saint Germain e Monaco, oltre che la Juve e Napoli? No, mi conferma e sto dicendo che io ho perso dei soldi per darlo alla Roma, perché ho pensato al ragazzo e non al denaro. Perché qui si rivelerà e farà vedere il campione che è. Va agli altri squadri, al Monaco, a quegli angeli, ce ne aveva otto davanti, doveva sudare troppo per prendersi un posto. Certo, è chiaro. La gavetta, la gavetta, sì che già l'ha fatta da noi, ha dimostrato il campione che è. D'accordissimo. Ferrero, lei ha detto prima di entrare, dice, lo do alla Roma, però me lo do non fa giocare. L'ha raggiunta questa intesa? Sì, 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 il ragazzo giocherà, ma io vengo a Roma a aver bisogno, perché hanno, non è che hanno tanta materiale importante davanti, eh. Il signor Giego non è che può fare 40 partite, eh. Sì, no, poi dipende anche da Di Francesco, secondo me sto ragazzo può giocare pure da esterno, perché è talmente forte, però poi... Questo ragazzo può giocare, datevi la palla e vi farà cantare. Eh, questo è importante. E niente, credo che Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi, grazie. Sono molto triste, dico ai Romani che sono molto triste, perché mi sono tolto un gioiello importante, ma sono molto felice che sia qui e giochi all'Olimpico. Forza chic, per me è uno shock. Grazie Ferrero, buona giornata. Arrivederci. Grazie ancora.